Non si stavano in bosco come adesso gli allevatori in bosco in piena notte, sapendo di poter trovare l'orso in qualsiasi momento. Sono letteralmente infuriati alcuni dei malgari che partecipano all'assemblea indetta d'urgenza dalla Col di Retti nella sede di Asiago e c'è addirittura chi minaccia di chiudere la propria attività. Come non bastassero cervi, cinghiali e muffloni a provocare danni ai pascoli sostengono, ora è arrivato anche l'orso. Un orso che da sabato 14 giugno ha ucciso 5 vacche, di cui 2 in questo fine settimana, in un raid che ha provocato il panico e la fuga di una mandria di 20 animali, alcuni feriti che ora lamentano una riduzione della produzione. Chiediamo alla regione di intervenire immediatamente e di prendere l'orso e spostarlo in altra parte. Anche a livello di risarcimento, oltre al danno per i danni diretti, quel che noi ci preoccupa effettivamente i danni indiretti, perché comunque un animale spaventato può accidentalmente farsi male e comunque un animale spaventato può avere delle conseguenze anche nei progetti prossimi mesi. Assieme al presidente provinciale della Coldiretti, Martino Cerantola, anche il direttore Giovanni Pasquali, il presidente di Asiago, Dino Panozzo e il sindaco Roberto Rigoni, tutti concordi nell'affermare che ci si trova di fronte ad un problema da non sottovalutare. Stiamo cercando di arginare questo fenomeno determinando un intervento immediato da parte del Corpo Forestale per far sì che questo orso venga monitorato nei suoi movimenti e crei meno danno possibile. A rappresentare la regione il consigliere Nicola Finco della Lega Nord. Per il trasferimento dell'orso bisogna fare tutta una trafila ministeriale con delle richieste ben specifiche. Intanto l'idea è quella di collaborare con le istituzioni di Trentine per la cattura dell'orso e mettergli un radiocontrollo. Dopodiché avvieremo tutte le procedure per la cattura e il trasferimento.